Allerta alta nel Terramano dopo i casi di variante indiana registrati sul territorio, positivi che sono spuntati nel focolaio sviluppatosi qualche giorno fa a Villapetto, a seguito della quale la ASL ha eseguito numerosi tamponi su tutto il territorio della frazione e di parte della città di Teramo, seguendo il cosiddetto contact tracing, cioè il tracciamento dei positivi. Come ricorda la stessa ASL, la variante indiana, anche conosciuta come Delta, si manifesta principalmente con mal di testa e di gola, naso che cola oltre che febbre, dolori muscolari e spossatezza e ha una capacità di contagio notevolmente superiore. Direttore registrati alcuni casi di variante indiana, variante Delta, com'è la situazione? La situazione, ecco, ieri abbiamo avuto la notizia che anche da noi è arrivata questa variante Delta, è una situazione che ci preoccupa un po', ma non per la gravità delle conseguenze sanitarie che comporta questo tipo di variante, ma per il fatto che dimostra che il virus ancora gira e quindi comporta tutta una serie di attività da parte nostra. Di questo dobbiamo ringraziare l'UCAT per il lavoro che sta facendo per monitorare il territorio con il tracciamento, i tamponi, la sorveglianza, un lavoro che dura da un anno e mezzo e che quando si pensava che fosse finito, ecco qui la situazione che ci fa riflettere un po'. Quindi questo deve essere un monito per tutti dell'importanza che riveste il vaccino, dell'importanza che rivestono le regole comportamentali, perché senza il rispetto di queste cose noi non ne usciremo mai da questa situazione. Io non è che voglio essere allarmista, però ecco, dobbiamo evitare che ci ritroviamo come lo scorso anno presi dall'euforia dell'estate che il virus sembrava che fosse stato sconfitto all'inizio dell'autunno e ricomparso con tutta la sua aggressività e con tutte le conseguenze che abbiamo subito quest'inverno. Lo ribadisco, vaccinarci e soprattutto rispettare quelle regole di comportamento basilari che sono fondamentali affinché non vi sia il contagio. Noi oggi stiamo tamponando tutte le zone, ci sono altre situazioni in altre località di cui l'UCAT sta facendo tamponi a tutte le parti per cercare di andare a scovare questo virus e tamponarlo e circoscriverlo immediatamente.